Ciao a tutti ragazzi, sono Verona 91 Seconda parte che ti faccio vedere Le mie carte Pokémon Perché sono davvero tante ragazzi No, tantissime Ah, comunque non ho intenzione di farle regalare Col cacchio le faccio regalare Ai bambini Ma perché tanto i bambini ce l'hanno I genitori E se lo possono comprare Eccetera Eppure a me non mi viene in tasca niente A me non mi viene in tasca niente raga Se ce li ho messi a doppie Eccasso Vabbè, doppia Vabbè, per ora va bene, le tengo No, perché se no poi io c'è meno Non voglio mica starle a A smenare Questi sono tutti i soldi che mi ha regalato mia madre Tutti mi ha regalato mia madre Da settembre che me le compra Quindi Col cazzo che gli regalano i bambini Chiara dice Sono per i bambini cretini Perché i bambini io non voglio essere cretini? Perché? Sono per i bambini, certo Ma anche gli adulti ce li hanno le carte Federic Non ha figli Ha 25 anni E colleziona carte Cosa cazzo vuol dire? C'ho Kinder C'ho Kinder E voglio spicciarmi Perché voglio fare questo lavoro Prima che scendo giù con lui Sto facendo il video Ti faccio vedere tutte le mie carte Pokémon Perché così Per un futuro li ho Perché così mi rimangono Nel canale Capito? Perché mi rimangono dentro il cellulare Perché poi io dopo un po' le cancello Devo riempire il telefono I miei video Voglio far vedere i video Nel mio canale Sì vabbè Quello che dice Chiara Non mi interessa Ne ho così tante ragazzi Che dovrò fare più parti Che dovrò fare più parti Raga Perché Ne ho tante Però mi fa piacere farvele vedere almeno A me mi fa piacere Poi ho l'applicazione Di Pokémon Go Ma io ho Pokémon Go Che alcune carte Che non ho qui Ce l'ho su Pokémon Go Voleva il nipotino Di Monica Che papà Del fratello Di Cioè Del fratello Di Monica Me l'ha chieste Che si chiama Matteo Si chiama il fratello Di Monica Ma il bambino Si chiama Mattia Le voleva Le voleva Mi aveva chiesto Per il bambino Di Mattia E poi Chiara Me l'aveva detto Che per un bambino Così Capito Se avevi carte Pokémon Io ne ho detto di no Perché io Da settembre Di quest'anno Che le ho Ragazzi Anche un po' di più Magari Non mi ricordo Quando è Però anche un po' di più Ma queste a me Mi interessano ancora E poi non le do A nessuno Perché Ho detto Regalo Quindi vuol dire Che a me Quelli Non mi pagano Capito Però ho detto Chiara Delle carte di Pokémon Che tu non usi Anche il fratello Di Monica Matteo Ha detto Se tu non le usi Se ce li hai Chiara Se tu le usi No Se tu non le usi Se ce li hai Ma non le usi Allora me le puoi dare Ma io ho detto No In quel momento Ma perché Non ce l'avevo No Ce l'avevo Dall'anno scorso Che ce li ho E io non ho intenzioni Di dargliele Perché queste sono mie Perché devo dargliele a Moccioso Che sono grazie Oh e basta Che io è da giugno scorso No è da L'anno scorso Che ce l'ho Ho le carte più belle Delle altre Perché devo mollare a Moccioso Di Di 5 Perché devo regalarlo a Moccioso Di 6 o 7 anni Moccioso cretino Come interpreta Chiara Ai bambini No ma io non le do ai bambini Assolutamente Ma neanche le doppie Perché io Le doppie Pretendo gli scambi Perché io voglio Gli scambi Con i doppie Tesoro Con i doppie Voglio il cambio Tesoro Perché io queste Le ho pagate Non è che Me le hanno regalate Sì Me le ha regalate Mia madre Però Ma mamma Me le ha pagate Ho già accennato Comunque Papà Non so Se riesco A far l'altro Perché Con questo Ci sto Impiegando Una vita E poi Non so Quante parti Devo Realizzare Che le sto A fare Non lo so Perché non mi ricordo Quando è il primo video Fatto con le pokemon Guardate Nel mio canale Ragazzi Guardate ragazzi Nel mio canale Che non mi ricordo Mi ricordo Che il primo Era il parco Quindi guardate Il mio canale Queste Mi piacciono Sono le uniche Che mi piacciono E me le vogliono Sempre togliere A me La mamma Non è d'accordo Ma neanche io Quindi Ci smeno io Allora La prima Scatola L'ho fatta L'ho tenuto Qui Nel mio Puffu Panda Questo Ci vediamo Per il mio video Ciao Ciao